Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo giallo in cui un maniaco dissemina parti smembrate di una donna per la città sfidando la polizia. Questo crea una tensione palpabile e una corsa contro il tempo per salvare la vittima, offrendo al lettore una storia ricca di suspense e mistero. La trama del libro Il Fattaccio, dello scrittore Antonio Rezza, pubblicato dalla casa editrice La nave di Teseo, è la seguente Il corpo ha da sempre territorio di indagine nella ricerca artistica di Antonio Rezza. In questo romanzo, però, un corpo intagliato ad arte diventa oggetto di indagine in senso stretto. Quando un maniaco, facendo ritrovare per la città parti smembrate di una donna, sfida la polizia in una lotta contro il tempo per salvare la sventurata. A capo dell'operazione è un commissario tormentato e riverente, perseguitato dalle telefonate di una sorella in carrazzina e dal senso di colpa che segue alla sua impossibilità a starle dietro, che sia per la contingenza del lavoro o per una precisa volontà di fuga da lei. Comincia allora una ricerca disperata insieme si è la rante in cui a poco a poco la parola si svuota di significato e segue il ritmo dei significanti in uno smembramento anche della forma e del genere poliziesco, evidentemente, che a un certo punto assume i tratti del picaresco, ugualmente messo in discussione poi con la soluzione del giallo. Il risultato è un genere a sé, il genere erezza, una prosa personalissima, capace in poche righe che ogni suoi lampi di sbalzare il lettore dall'arreso alla commozione e viceversa. Un turmine dei frammenti, un avvicendamento galoppante in cui si riflette continuamente quello che avviene in parallelo sul piano dei contenuti. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato. Se hai voglia di condividere il tuo pensiero, lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami per favore a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie, iscriviti al canale.